Il campionato sta per iniziare, siamo alla vigilia dello start della decima stagione consecutiva del Napoli in massima serie. Toccherà al Bentegodi ospitare gli azzurri, perciò la redazione di Iamnaples.it ha contattato il collega Simone Antolini dell'Arena. Pecchia sa benissimo che l'impegno col Napoli sarà molto difficile, è una partita speciale anche per lui, visti i trascorsi con la piazza, sia da calciatore che da vice allenatore di Benitez, quindi il Verona cercherà di giocare una grande gara. Sulla carta, è ovvio, che i pronostici sono per il Napoli, ma alla prima di campionato, i pronostici sono sempre R-E-L-A-T-I-V-I. Il Verona punterà alla salvezza, oppure ci si potrà aspettare qualcosa in più. In questo momento, bisogna aspettarsi solo la salvezza. È pur vero che Pecchia è stato vice di Benitez tra Napoli e Madrid, ma è alla sua prima esperienza da allenatore in massima serie. Il Verona ha ancora bisogno di un altro centrocampista, e di qualche altro giocatore offensivo. Cerci è tutto da riscoprire, poi c'è Pazzini, e Verde, che ha fatto molto bene ad Avellino. Servono giocatori di qualità, e di livello che non sono arrivati, e poi non dimentichiamoci che qui a Verona, abbiamo assistito alla Telenovela Cassano.